Entra nel vivo con i primi 160 tablet e le stampanti in dotazione alla Polizia Municipale la rivoluzione tecnologica delle multe. A partire dai quartieri Chiaia e Avvocata, gli agenti scendono in strada con i nuovi dispositivi che potrebbero sostituirsi gradualmente al libretto cartaceo nel sistema di scrittura e consegna dei verbali. Il servizio al via dopo un periodo di formazione che ha coinvolto il personale di Polizia sarà esteso nei prossimi giorni anche ad altre zone della città e consentirà tempi di notifica più veloci, oltre a ridurre notevolmente il carico di lavoro in ufficio degli agenti. Avremo la possibilità di avere minore trattazione burocratica degli atti, una volta elevato il verbale e in automatico sarà possibile spedirlo al contraventore. Ci sarà quindi un minore lavoro all'interno degli uffici e io mi auguro di poter recuperare diverse persone da destinare ad altre attività. È importante investire in strumenti nuovi, tecnologici e oggi è una giornata di ordinare amministrazione per la città di Napoli. Ci mettiamo al passo con le altre città europee, con le altre città italiane, ma soprattutto la vera festa sarà quando? Quando noi anche questi tablet non li useremo mai perché i napoletani contribuiranno con il loro senso civico ad amare questa città attraverso il rispetto delle regole. Tra le novità tecnologiche anche l'installazione di telecamere sulle auto della municipale, in grado di leggere e sanzionare i veicoli senza revisione e assicurazione e da breve la possibilità di riprendere e multare le macchine in seconda fila. Le telecamere che sono state installate sulle nostre autovetture che ci danno la possibilità in modo dinamico di verificare delle violazioni che sono collegate alla mancanza di assicurazione, alla mancata revisione e ne avremo tra breve un'altra che ci permetterà di fare in automatico verbali per le autovetture in seconda fila.